Con le dimissioni consegnate ai capitani reggenti alle due di notte di giovedì scorso, da parte della forza di maggioranza di Civico X, seguite successivamente da quelle degli altri alleati di governo di Sinistra Socialista Democratica, è terminata anticipatamente la legislatura sanmarinese, che era iniziata a dicembre 2016. Dopo tre anni, quindi, la maggioranza di Adesso SM termina così la propria corsa, al culmine di una crisi in cui, caso più unico che raro, a fornire la spinta finale erano stati i partiti di opposizione, che già all'uno di scorso avevano rassegnato le dimissioni. La spiegazione del gesto, ufficialmente, viene motivata dalla necessità di compiere scelte difficili, soprattutto a livello economico, a causa di una crisi che persiste da 11 anni e per la quale saranno quindi necessarie scelte il più possibile condivise, tra cui in primis la riforma previdenziale. Le norme elettorali del Titano non consentono di verificare la possibilità che ci siano altre maggioranze e quindi si deve andare alle urne, non prima di 60 giorni e non oltre 90. Intanto, prima dell'effettivo scioglimento, la prossima settimana si terrà l'ultima riunione ordinaria del Consiglio Grande Generale, il Parlamento sanmarinese, durante il quale sarà votato l'assestamento di bilancio, poi lo scioglimento e l'avvio ufficiale della campagna elettorale, di fatto però già in corso da tempo.